Ciascuna in fondo descrive un cerchio, un circolo in direzioni opposte. 5-5-5-1 è un altro schema 4 palline su 5. Lunghezza pari e lancio asimmetrico, cioè schema asimmetrico. Perché solo la mia mano sinistra fa gli uno. 6-1-2 ci sono 3 palline, alcune palline fanno dei 6. Una fa 1-2, 1-2, 1-2. Talvolta questa la chiamiamo, nel gergo, la cabina della doccia. 5-2-5-1-2 ha alcune palline fanno dei 5, una no. Qualche volta lo chiamiamo schema del giocoliere bambino. Alcuni di questi schemi non hanno dei nomi, soltanto dei numeri. bastano i numeri a descriverli. 4-4-1 4-4-1 5-1-4-1-4 5-1-4-1-4 In 5-1-4-1-4 In 5-1-4-1-4 In 5-1-4-1-4 In 5-1-4-1-4 vedete che la pallina argento only does 5's. fa solo dei 5's. 5-6-1 5-6-1 5-6-1 5-6-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1 Ancora la volta. La mano destra fa soltanto dei sette e dei sei. La sinistra solo dei uno e due. Ho attirato la vostra attenzione sul fatto che certune delle palline fanno soltanto determinate cose. Come facciamo a determinarlo su una base numerica? In questo schema 661515 L'ho disegnato qui come un diagramma spazio-tempo appiattito. Ma invece di pensare che questa sequenza continui all'infinito Adesso la piego fino a farci un cerchio. Ecco, qui a distanza di sei spazi abbiamo un altro sei nella versione lineare appiattita. Ma in questa altra versione il sei atterra sei lanci dopo su se stesso. In questo schema questo sei atterra su se stesso al sesto spazio. Ma invece questi altri si comportano in un'altra maniera. Vediamo in pratica che cosa sto dicendo. Le palline argento e viola fanno soltanto dei sei. La rossa e la verde descrivono dei circoli, dei cerchi. As the mathematics promises. We saw the baby juggling pattern already. Abbiamo già visto lo schema del juggling. Biogra circa! Avanti! Di anh Enterprise!